Nella giornata di oggi, fa sapere la protezione civile, sono 1.615 nuovi contagiati, 610 invece i decessi, mentre 1.979 sono le persone guarite. Ad oggi in terapia intensiva sono ricoverati in tutta Italia 3.605 pazienti, 88 in meno rispetto a ieri. E questo è un dato in calo per il sesto giorno consecutivo. Purtroppo tra i decessi vanno registrati ancora una volta camici bianchi, due medici di famiglia e un chirurgo oncologo. Hanno contratto il virus nel corso del loro lavoro e così sono 105 i medici uccisi dal Covid-19 in questi terribili mesi. Il prossimo fine settimana, con la festa di Pasqua, è ritenuto cruciale da parte del governo per fermare il contagio. Per questo l'invito è sempre lo stesso, restare a casa. E dal Viminale arriva una circolare ai prefetti per rafforzare i controlli nelle città e lungo tutta la rete stradale ed autostradale. Nelle principali città ci saranno posti di blocco in entrata e uscita, ma non solo. Per scoraggiare i più disobbedienti è prevista l'intensificazione dei controlli nei comuni di vacanza e un inasprimento delle multe da 400 a 3.000 euro, con tanto di denuncia per falso nei casi più gravi.